Musica Continua lo scontro sulla giustizia, voto parlamentare sul caso Rubi e processo breve, sono le questioni del contendere. Roma ha sequestrato un deposito di autodemolizioni, due fermanti perché nell'area si trovavano molti veicoli di sospetta provenienza. Ospedale con un click, servizio online per ottenere documenti medici all'ospedale romano del Bambin Gesù. Il Salone del Risparmio fino all'8 aprile all'Università Bocconi di Milano. Lombardia Film Commission, un incontro dedicato alla diffusione del sistema audiovisivo. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo sulle questioni che riguardano la politica ma soprattutto la politica legata alla giustizia perché sia alla Camera, quindi a Montecitorio che al Senato, a Palazzo Madama, si stanno discutendo due cose che sembrano andare in contraddizione. Da un lato si discute del processo breve e qui stiamo parlando della Camera, mentre a Palazzo Madama si discute di come allungare il processo. Una schizofrenia assoluta nella quale noi stessi non riusciamo a dar conto compiutamente se non sentendo le voci dei politici che sono stati intervistati e che adesso vi facciamo sentire e vedere. Continuano in Aula, in Parlamento, la riforma della giustizia e la riforma del processo breve. Andrete avanti con questa riforma? Certamente sì, nell'interesse del Paese. Non è un processo breve ma un processo in tempi definiti. Il processo per essere giusto deve essere gestito da un giudice imparziale, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità ma soprattutto in tempi ragionevoli. In ballo ci sono i diritti fondamentali dei cittadini. Il Parito Democratico si opporrà con ogni strumento consentito dai regolamenti parlamentari e denuncerà di fronte al Paese che tutto questo non ha nulla a che fare con la riforma della giustizia. Questo è un modo per evitare i processi al Presidente del Consiglio e la legge che si sta discutendo e che si rischia di approvare nei prossimi giorni alla Camera è una legge che manderà liberi molti criminali e estinguerà molti reatti alla faccia delle parole d'ordine sul rigore che spesso il centro-destra ha utilizzato e la Lega in particolare. Il Presidente deve applicare alla lettera il regolamento. Se questo sembra irragionevole è intrarci ai lavori parlamentari, se si vuole limitare l'ostruzionismo, che peraltro è un diritto che avviene in tutti i parlamenti del mondo, esiste un'aggiunta del regolamento che si riunisce e la quale può interpretare il regolamento dando indicazioni al Presidente oppure anche può cambiare il regolamento. Ma non si può pretendere che in aula il Presidente non stia rigorosamente al regolamento esistente. Siamo di fronte ad una forma inusitata e selvaggia di ostruzionismo fatta apparentemente sul processo verbale, ma proponendo che ogni singolo parlamentare che ha parlato nella seduta di ieri oggi riprecisi il suo pensiero, che ha tutti i termini per poter bloccare i lavori del Parlamento oggi, domani e nel futuro. Si tratta di una forma di ostruzionismo che non è mai stata accettata nella Camera e la responsabilità del fatto che questo ostruzionismo, che potenzialmente può bloccarne i lavori sine die, venga superata, evidentemente è del Presidente della Camera Onorevole Fini. E' fuggito a Malta l'ex Ministro libico dell'Energia Fatih Bin Shawant, lo ha reso noto, il Ministero degli Esteri Maltese, secondo cui Shawant è approdato nell'arcipelago venerdì scorso a bordo di una moto peschereccio. C'è un sistema, una piccola frottiglia di moto pescherecci che fa la spola tra Malta e Misurata, che come sappiamo è sotto assedio da una quarantina di giorni, è sotto il fuoco degli uomini di Gheddafi. Malta sta inviando con piccoli pescherecci aiuti umanitari alla città, ultima roccaforte dei insorti in Tripolitania assediata e sotto bombardamento, come abbiamo ricordato poco fa, da 40 giorni. Vediamo subito un altro servizio, ed è la cronaca, a questo punto in primo piano con i carabinieri di Roma, che hanno eseguito due fermi e il sequestro di un deposito di autodemolizioni. Due persone fermate, come detto, all'interno del deposito sono state trovate targhe di mezzi rubati e numerose altre parti meccaniche di veicoli di dubbia provenienza. Vediamo il servizio. Seguivano un mezzo rubato e hanno scoperto un centro per il riciclaggio di auto. Sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che, lanciati all'inseguimento di un'auto rubata tramite la centrale operativa Via Sat, si sono ritrovati nel centro di demolizioni auto di Via di Fioranello, dove aveva sede una centrale clandestina di riciclaggio di mezzi rubati. I carabinieri hanno infatti rinvenuto, insieme al mezzo che stavano inseguendo su indicazioni della centrale di Via Sat, anche targhe appartenenti a varie auto rubate e numerose altre parti meccaniche di veicoli di provenienza sospetta, che non risultavano nel registro delle demolizioni effettuate dalla ditta. Il titolare dell'attività di 34 anni e il suo dipendente di 47 anni sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di riciclaggio aggravato in concorso. L'intera area dell'autodemolizioni di Via di Fioranello è stata sequestrata in attesa delle necessarie verifiche. I fermati sono stati condotti presso la casa circondariale di Regina Celi in attesa dell'udienza di convalida. Adesso un altro servizio che riguarda la sanità ed è stata presentata all'ospedale Bambin Gesù di Roma la Carta della Salute, uno strumento innovativo per avere online il fascicolo sanitario dei piccoli, evitare quindi fili molto lunghe e lunghe e altrettanto lunghe attese. Intanto uno studio dice che i bambini italiani sono distratti e iperattivi. Il servizio di ADN Cronos. La sanità elettronica sbarca all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie a una carta della salute personale per ogni bambino è possibile accedere al nosocomio capitolino direttamente via web, tramite pc ma anche iphone e ipad. Si tratta di una carta elettronica che permette ai genitori che ne facciano richiesta di prenotare con tanto di prememoria eventuali visite e di pagare il ticket senza recarsi alla cassa. Il fascicolo elettronico contiene inoltre le cartelle cliniche aggiornate, le diagnosi e tutti i referti ambulatoriali di laboratorio e di immagini del bambino. Informazioni utili ai familiari ma anche ai pediatri. Si può accedere ai dati tramite una connessione protetta da un PIN al portale dell'ospedale www.ospedalebambinogesù.it Nei prossimi sei mesi ci collegheremo con questi pediatri, forniremo anche a loro una carta della salute e combinando quella del piccolo paziente insieme alla loro non solo leggeranno la storia clinica presso l'ospedale ma saranno in grado di aggiornarla proprio con l'esito delle loro visite. Una grande innovazione in una sanità che cambia molto più rapidamente di quanto noi stessi non percepiamo. I bambini con malattie croniche complesse hanno bisogno di ospedali come il bambino Gesù ma al contempo devono il più rapidamente possibile vivere una vita normale e quindi stare a casa con i propri proprietari di famiglia. L'ospedale in un clic è proprio la risposta a questi problemi. Un modo nuovo e moderno per accedere ai servizi di un ospedale applaudito anche dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio e dal collega della Funzione Pubblica Renato Brunetta che vede questo servizio come una valida accelerazione in linea con un sistema sanitario sempre più in rete. Accelerazioni finalizzate alla customer satisfaction, alla soluzione di problemi di efficienza all'interno di questa singola comunità. L'Italia ha veramente fatto un enorme passo avanti negli ultimi tre anni in questo settore. Tenete presente che solo tre anni fa noi eravamo quasi agli ultimi posti. Questo dal punto di vista degli health e questo anche perché naturalmente paesi anche molto più piccoli come la Danimarca, la Svezia, in questi paesi è stato forse più facile rapidamente realizzare una serie di cose. Le forze dell'Alleanza impegnate in Libia ribadiscono anche oggi il loro impegno. La Nato farà di tutto per difendere la situazione che si è venuta a determinare in Tripolitania ma soprattutto eviterà di colpire civili durante le incorsioni. Così si è espresso la portavoce Carmen Romero rispondendo alle accuse dei rivoltosi libici di non proteggere la popolazione innocente. Misurate alla nostra massima priorità. Abbiamo un mandato chiaro e faremo di tutto per proteggere i civili di misurata. appunto ha detto la portavoce Carmen Romero. Ha preso il via la seconda edizione del Salone del Risparmio 2011. La manifestazione dedicata al settore del risparmio gestito e promossa da Soggestioni si svolge fino all'8 aprile presso l'Università Bocconi di Milano. Presente all'inaugurazione il sindaco Letizia Moratti. Presente oggi al primo giorno del Salone del Risparmio 2011 all'Università Bocconi di Milano il sindaco della città Letizia Moratti. Secondo il primo cittadino Milano può candidarsi a essere tra le capitali europee del risparmio gestito. Grazie alla direttiva europea e alla norma che rende la tassazione italiana favorevole agli investimenti internazionali Milano può candidarsi a essere capitale del risparmio gestito attraverso una rimodulazione dell'Imu al ribasso per tutte quelle imprese di questo settore che decidano di investire nella nostra città. Il Salone del Risparmio è stata l'occasione anche per parlare della situazione economica e imprenditoriale milanese. L'anno scorso un incremento della produzione industriale dell'1,9 e il saldo tra imprese che nascono e imprese che cessano all'attività positivo per 22.000 imprese. Abbiamo dimostrato anche la capacità di saper attrarre investimenti internazionali importanti. Continueremo nel creare tutte quelle condizioni che sono condizioni date dalla qualità della vita, dalla qualità del capitale umano e sociale della nostra città, dall'infrastrutturazione, dai collegamenti aeroportuali. Quindi continueremo a investire per creare tutte quelle condizioni che rendano Milano una piazza sempre più attrattiva per i capitali internazionali. Il terremoto di magnitudo 9 che l'11 marzo investì le coste nord-orientali del Giappone generando un devastante tsunami è stato così violento da aver spostato di ben 24 metri in direzione est-sud-est una porzione del fondale dell'oceano Pacifico, quella più vicina all'epicentro localizzato a 24 chilometri al di sotto della piattaforma continentale e 130 chilometri ad est nel porto di Sendai. Lo riferisce la guardia costiera nipponica. Un altro servizio, ancora una volta da Milano, è il cinema Anteo, per la precisione, presentato Lombardia Film Commission Day, un incontro dedicato alle prospettive dell'audio visivo a Milano e in Lombardia. La fondazione No Profit è creata per promuovere la realizzazione di film, fiction, tv, spot pubblicitari, documentari e ogni altra forma di produzione audiovisiva. Vediamo. Siamo qui davanti al cinema Anteo di Milano dove oggi si è parlato di Lombardia Film Commission, un ente che si propone di sviluppare il cinema in Lombardia e di attrare le produzioni audiovisive nella regione. Presenti il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni e il sindaco di Milano Letizia Moratti. Lombardia Film Commission, che ho fatto bene ad insistere per far capire alle altre istituzioni che non avevano molto orecchio in questa direzione, ma che finalmente in questo ultimo anno e mezzo ha dimostrato di poter funzionare attraendo dei produttori a realizzare i loro film, i loro documentari, i loro corti nelle zone non solo di Milano ma nelle altre zone delle città e delle bellezze naturali di regione Lombardia. Nell'ultimo anno attraverso l'abolizione della tassa di occupazione del suolo e la tassa dell'immagine abbiamo raddoppiato le produzioni cinematografiche sulla città di Milano. Intendiamo proseguire su questa strada attraverso una semplificazione già effettuata dei permessi per le produzioni e attraverso un raccordo sempre più stretto tra le scuole di cinema, quindi tutta la filiera della produzione, il mondo del cinema, quindi il mondo della creatività, le imprese e i grandi committenti come le televisioni. Abbiamo così concluso anche questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo le previsioni del tempo, cielo sereno sui nostri comuni e lieve rialzo delle temperature, il nostro sito è estnews.it, grazie e arrivederci.